Si è concluso a Roma il seminario Corpi Civili di Pace. Dopo la sperimentazione, quale ruolo per il futuro? Al quale hanno partecipato i diversi attori coinvolti, i giovani CCP, le istituzioni e gli enti, sia quelli provenienti dal mondo del peace building, sia quelli appartenenti al mondo del servizio civile, tutti accomunati dalla consapevolezza che, in un contesto caratterizzato da conflitti e sfide globali, è necessario investire in politiche e strumenti di pace. I Corpi Civili di Pace sono giovani volontari che svolgono azioni di pace non governative nelle aree di conflitto e a rischio di conflitto e nelle aree di emergenza ambientale. Nascono come un'iniziativa, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sono diventati operativi nel 2017, dopo una prima fase triennale di sperimentazione. I CCP hanno l'obiettivo di cercare soluzioni alternative all'uso della forza militare, di promuovere solidarietà e cooperazione, tutela dei diritti sociali, servizi alla persona ed educazione alla pace fra i popoli. Entrano nelle comunità dove vanno a operare e le affiancano, condividendone preoccupazioni e bisogni. Prendono parte a progetti pensati per promuovere la pace e salvaguardare i diritti attraverso comportamenti e tecniche che aiutano a prevenire l'aggravarsi della situazione e trasformare i conflitti in penetrazione, dialogo e riconciliazione. L'Istituto dei CCP deve essere stabilizzato, qualificato e potenziato, hanno evidenziato le testimonianze dei giovani che hanno appena concluso il servizio. A loro, vari protagonisti di questa sperimentazione, va il ringraziamento della Cinesc per la dedizione e l'impegno mostrato. L'esperienza maturata in questi anni sarà fondamentale per costruire un nuovo paradigma di sicurezza che riconosca il ruolo centrale dei civili nella prevenzione e trasformazione non violenta dei conflitti. Io mi sono laureata da poco, a fine 2018, in diritti umani all'Università di Padova e ho pensato che i Corpi Civili di Pace fossero un naturale proseguimento di quelle che sono state le mie esperienze, sia in campo universitario sia anche in campo del volontariato e lavorativo. Oggi è sicuramente una giornata importante per capire un po' la gerarchia che sta alle spalle, quindi chi ha organizzato tutto per l'avvio del servizio dei Corpi Civili di Pace ed è importante anche capire come dal basso, dall'interno delle comunità, all'interno dei progetti possiamo sperimentare quello che il Ministero ha programmato per noi. Grazie!